Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di cibi buoni e cibi cattivi. È un argomento di cui volevo parlare, volevo dedicarci proprio un video, perché mi sono venute un po' di riflessioni durante tutto questo periodo in cui sto dividendo quello che sostanzialmente mangio, in questo periodo di intuitive eating, eccetera, e vedo alcune reazioni che ci sono da parte di alcune persone, alcune domande che arrivano prettamente su Q&A, su Instagram, su Direct, eccetera. E quindi sto notando che c'è proprio in qualche modo l'incapacità da parte di alcune persone per dei messaggi logicamente che arrivano di distinguere quelli che sono dei cibi cattivi e dei cibi buoni. Ovviamente è un termine bruttissimo utilizzare, non ci sono cibi cattivi e cibi buoni, però realmente quando logicamente ci approcciamo a un aspetto nutrizionale consideriamo sempre che ci sono alcune scelte alimentari che siano di singoli alimenti o siano di un pasto completo, che ovviamente avranno un impatto positivo o negativo sulla nostra salute, sulla nostra performance, e quindi conseguentemente salute, eccetera, eccetera. Quindi possiamo dire, come si parla di colesterolo buono o colesterolo cattivo, in realtà non c'è un colesterolo buono o colesterolo cattivo, possiamo parlare di cibi buoni e cibi cattivi. E arriviamo al paradosso in cui alcuni cibi sono identificati a priori come cattivi, come qualcosa che non si dovrebbe vedere da parte di qualcuno che si allena, da parte di qualcuno che ricerca salute, un fit influencer o un atleta o quel che è. E quindi arriviamo al paradosso in cui la pizza o un hamburger a priori non va bene e preferisco mangiare il budino proteico che ho comprato magari alla Lidl o ad Oshan o dove vi pare o ordinato su internet o il gelato proteico che contiene in realtà un sacco di edulcoranti, un sacco di conservanti, eccetera, eccetera. E questa è come scelta a priori, nel senso che accetto molto di più di vedere un fit influencer che mangia il budino, che parla del budino, piuttosto che vederlo mangiare un hamburger o pizza a priori, senza sapere esattamente il contesto o quello che sta facendo. E questa è una cosa fondamentalmente sbagliata perché si arriva a un punto, come vedremo, in cui le calorie e in qualche modo anche la ripartizione macros sono l'ultima cosa che ci dovrebbe interessare nella scelta dell'alimento e nella scelta di un posto. Adesso questo lo vedremo, cioè quante calorie contiene un alimento e quali macros contiene un alimento contestualizzato, ok? Quindi non prendete questa singola frase, vedete, ma ne parleremo dopo e capiremo alla fine di questo video che cosa intendo, però sono quasi l'ultima cosa che ci dovrebbe interessare, ok? Ripeto, non prendete questa singola frase, non chiudete qua il video, se vi interessa sapere il perché, aspettate di seguire il ragionamento, ok? Perché come frase è molto molto pericolosa, tra virgolette, quindi non voglio passare come quello che dice le calorie macros non contano niente, assolutamente, ok? Cerchiamo di capire che cosa intendo. Come poter identificare un cibo o un pasto buono, ok? Quindi parliamo di un singolo alimento oppure di un singolo pasto, eccetera. Cioè, come faccio a capire se è un qualcosa di buono? Vi condivido quel mio processo, il mio thought process, perché in qualche modo è quello che sto facendo adesso con questo 22 eating, come detto non è nero bianco, non sto facendo un mangio quello che cazzo voglio, però sto mangiando quello che mi sento di mangiare, quello che mi va di mangiare senza pesare, ok? E logicamente però mi baso su alcune linee guida, tra virgolette, o comunque delle linee guida decisionali per decidere che cosa concretamente vado a mangiare, ok? Quindi non è la prima cosa che mi capita sotto gli occhi, però cerco di basarmi su qualcosa che ha un impatto positivo. E la prima cosa in assoluto, la prima che considero quando devo scegliere che cosa mangiare è, quest'alimento avrà un impatto positivo o negativo sul mio sistema gastrointestinale. E questo è inderogabile, nel senso che non mangio assolutamente niente che possa avere un impatto negativo sul sistema gastrointestinale. È la mia prima preoccupazione, quindi anche da questo capite che non è un mangio quello che cazzo voglio, però quando mi rapporto a un determinato alimento, eccetera, la microflora, la salute gastrointestinale è la prima cosa, perché se creo dei fastidi gastrointestinali, ovviamente al di là del fastidio che c'è proprio a livello di percezione, di fastidio durante la giornata, eccetera, vado a creare un malassorbimento di quelli che sono i miei nutrienti e sia quello sia il danno che vado a creare a livello di microbiota si ripercuotono sulla performance e si ripercuotono sui miei risultati adattamenti ipertrofici. Quindi niente di quello che mangio ha un impatto negativo sul mio sistema gastrointestinale. Non bene o male, questo è quello che cerco di fare, poi logicamente la sfiga è sfiga e ci sono momenti in cui magari c'è un po' di bloating, un po' di meteorismo, eccetera. E questo si basa essenzialmente sul quantitativo di fibre, quindi deve esserci una buona quota di fibre nell'arco della giornata, ma non devo esagerare. Quindi alimenti fibrosi mangiati in grandi quantità durante tutta l'arco della giornata creano delle problematiche da un punto di vista gastrointestinale, perché le fibre ci devono essere, di base a un qualcosa che migliora la salute gastrointestinale, però non dobbiamo neanche cadere nell'eccesso. Quindi il primo discorso è l'impatto delle fibre. Il secondo discorso è il contenuto di eventuali fitocomposti, che sono sicuramente ben tollerati e riescono a arricchire quella che è la microflora intestinale, eventualmente ci dedicheremo un video. Elementi di enzimi digestivi, elementi che migliorano l'assorbimento di determinati macrosi, macronutrienti o determinati nutrienti, quindi un contenuto di vitamina C per enfatizzare l'assimilazione del calcio, un contenuto di bromelina per enfatizzare l'assimilazione di determinati macrosi, eccetera, eccetera, e la presenza o meno di conservanti edulcoranti, ok, in minime quantità di succo la rosee e dolcificanti nel corso della giornata di per sé non sono dannose, però alimenti che sono super ricchi di edulcoranti, di addensanti, super ricchi per esempio di gomma di xantano, super ricchi di xilitolo, di dolcificanti, eccetera, possono andare a compromettere la salute gastrointestinale e creare problemi, quindi per esempio se vi sfondate di gomme da masticare, questo non fa bene al vostro sistema gastrointestinale. In ultimo, logicamente la scelta è come digerisco un determinato alimento, abbiamo delle sensibilità che sono personali di determinati alimenti, sensibilità al glutine che non è un'intolleranza, una celiachia, ma una lieve sensibilità al gluteni, abbiamo delle problemi di IBS che possono essere causati da certa quantità di legumi, quindi quando raggiungiamo magari totte lenticchie nell'arco della giornata tendiamo a stare male, quindi abbassiamo la quantitativa di lenticchie, per dirne una, perché i legumi tendono ad avere in antinutrienti a essere più difficili da digerire, però dovrebbero essere inseriti nel nostro piano alimentare, perché si tratta di abituare il sistema gastrointestinale, insomma, tutte considerazioni su cui mi devo basare, quindi come digerisco l'alimento di per sé, come lo assimulo. Quindi, la prima cosa è il sistema gastrointestinale. In secondo luogo, mia scelta personale nella scaletta è il profilo lipidico. Il profilo lipidico perché? Perché è quello che più impatta su quello che è il pane lematico, quindi sulla nostra salute. Di fatti in nutrizione si parla della scelta dei grassi e si dice sempre che è importante la quantità di grassi, però è molto più importante la qualità, nel senso che la quantità di grassi in realtà è molto variabile. Il quantitativo di grassi minimi essenziali per far sì che essi possano svolgere le loro funzioni nel nostro organismo in realtà è molto molto più basso di quanto noi crediamo. Non è ottimale magari, ma è basso basso. E da là la cosa più importante è ragionare su quella che è la qualità dei grassi che assumiamo. Quindi, quantitativo minimo è essenziale per il funzionamento, però se sto più alto posso sfruttare la qualità dei lipidi per avere un impatto positivo sul mio pane lematico, sulla mia salute. I lipidi hanno tantissimi effetti benefici sul cuore, sulla salute cardiovascolare, su un impatto anti-infiammatorio, un impatto antiossidante. In questo io sono un grande fattore sia dell'assimilazione e dell'inserimento di Omega 3, sia come integratori, sia nella scelta degli alimenti, quindi la carne grass-fed piuttosto che il salmone selvaggio, eccetera, sia l'inserimento del nostro re, per noi italiani, che è l'olio extravergine di oliva, che ha un impatto positivo e fantastico sulla salute cardiovascolare. Quindi per queste ragioni lipidi presenti che nella maggior parte degli alimenti fit sono veramente la cosa più brutta e sono le scelte fatte peggio, perché semplicemente non ci mettono l'olio di palma, che peraltro non è così tanto dannoso, e preferiscono altri oli che sono potenzialmente più dannosi, come per esempio l'olio di cocco. Sul nostro porfilo e pane nelematico ci mettono un sacco di schifezza. Da questo punto di vista il profilo lipidico è sempre l'ultima cosa che viene considerata. Quindi da questo punto di vista ridurre il più possibile il quantitativo di burro, di grassi saturi di deriviazione animale, che non siano grass-fed, di oli vegetali, soprattutto i peggiori, l'olio di colsa, l'olio di cocco, eccetera, eccetera. Quindi per questa ragione il profilo lipidico è uno dei fattori su cui mi baso di più, diciamo al secondo posto. Da là il profilo amminocidico, cioè nel caso in cui affronto un pasto proteico, logicamente quello che è il profilo amminocidico mi interessa, infatti molti alimenti fit, alimenti proteici, sono ricchi di proteine della soia, che sono tendenzialmente più economiche, proteine del latte generiche, quindi il pool amminocidico non è così fantastico come si crede. E di nuovo, io la cosa che dico sempre per i fautori del calcolo spasmodico dei macros, noi non mangiamo carboidrati, grassi e proteine, ma in realtà mangiamo saccaridi, acidi, grassi e amminoacidi. Quindi non basta ragionare quante proteine, quanti grassi e quanti carboidrati, ma dobbiamo sapere esattamente. E quindi, nel momento in cui vado ad affrontare un pasto o un alimento, do un occhio anche a quello che è il profilo amminocidico. Non sono esagerato in questo, nel senso che comunque il quantitativo di proteine necessario che mi serve realmente non è così alto. Per le calorie che sto assumendo lo raggiungo tranquillamente senza impazzire, e per il fatto che integro con il protesamine, come sapete, con l'Alphatec, ho un boost a livello di proteosintesi veramente ottimale, quindi da questo punto di vista non sono ammicale. Quindi se devo darvi una classifica la metto al terzo posto. E l'ultimo posto la tipologia di saccaridi. Ora, ultimo posto, tra virgolette, ultimo posto, quarto posto, in realtà c'è dell'altro. In realtà, da un punto di vista tipologia di saccaridi, devo dirvi che, da una parte, l'aliremanza principale è sul, quello che abbiamo visto all'inizio, l'impatto che hanno da un punto di vista gastrointestinale. Quindi, posto che ragioniamo soltanto sui saccaridi che digerisco bene, realmente non mi interessa quanto siano raffinati, meno raffinati, quanto siano di impatto, non di impatto. Di nuovo, se il sistema gastrointestinale funziona, vuol dire che sto assumendo adeguate fibre. Da un punto di vista di salute, ovviamente, c'ho una cura di quelle che sono i micronutrienti, eccetera. Quindi, poi che vada ad assumere un tot di carboidrati raffinati, non mi interessa, perché realmente mangio così tanta frutta e verdura, mangio così tanti carboidrati in generale, anche da fonti integrali, che quel surplus che vado a mangiare può essere anche derivante da fonti raffinati. Non mi interessa tanto l'impatto glicemico, perché realmente sull'atleta, sullo sportivo, che si allena in un certo modo, eccetera, quindi non sul sedentario assolutamente, ma sullo sportivo, l'impatto glicemico è relativamente importante, perché abbiamo un muscolo che sarà super recettivo e un metabolismo che sarà tendenzialmente abbastanza rapido. A livello recettoriale ci avremo un ottimo profilo, un'ottima attivazione nel corso comunque della giornata e per il fatto che comunque mangiamo grassi, proteine, i pasti sono equilibrati, non avremo mai quegli spike insulinici e glicemici di cui dobbiamo aver paura. Quindi, da questo punto di vista, non è che scegliere soltanto raffinato, se per un sedentario che tende a mangiare comunque un 180-200 grammi di carboidrati, qualcosa in più, può essere una soluzione vincente per uno sportivo che sta sopra i 500-600 grammi di carboidrati, può essere tragico proprio perché, come abbiamo visto, un eccesso di fibra potrebbe creare delle problematiche. Quindi, la scelta dei saccaridi sicuramente c'è, tipologia dei saccaridi, non esagerare col fruttosio in generale, ma non eliminarlo del tutto, mangiare comunque tanta frutta e verdura, eccetera, eccetera. Però, posto questo, diciamo che sta abbastanza in secondo piano. Ora, l'ultimo punto, su cui logicamente ragiono, ma è veramente l'ultimo dettaglio, è il quantitativo calorico e quantitativo di macros, soprattutto calorico. Quello calorico non mi frega assolutamente niente delle calorie del cibo, nel senso che, per come sto lavorando io in generale, non vado a determinare un cibo che sia pulito e un cibo sporco in base alle calorie che ha. Perché questo? Perché, da una parte, il mio dispegno energetico e la mole di calorie che consumo, anche in funzione di quel che mangio, quindi la regolazione del corpo a livello di omeostasi, quindi la capacità del corpo di aumentare il dispegno energetico se vado a mangiare di più, eccetera, è tale che, realmente, non raggiungerò mai un livello calorico che mi porterà fuori fisiologia da un punto di vista di BF. Primo punto. Quindi, per me è veramente difficile, difficile ingrassare, ok? Ingrassare troppo in un periodo di bulk. Dovrei forzarmi di mangiare come un porco tutti i giorni, fino a star male. Quindi, di per sé, la sazietà, l'autoregolazione arriverà prima. E anche se esagero, perché magari è un alimento che mi piace molto e vado un po' di gola, so anche che, probabilmente, il giorno dopo, negli altri pasti, proprio per questo approccio di intuitività che sto facendo, semplicemente arriverò a mangiare di meno. Ci sarà un'autoregolazione in questo e probabilmente gli allenamenti sarò anche, magari, non dico migliore a livello di performance, perché questo no, già come mangio adesso massimizzo la performance, non è che il mangiare di più mi permette di massimizzare, però ci sarà un maggior dispegno energetico. Questo perché ci sarà semplicemente una miglior conversione di calore, una maggior conversione di calore e dell'energia, ok? Quindi l'energia del cibo verrà convertita in calore a un tasso molto più inefficiente, in realtà, perché da un punto di vista termodinamico è inefficiente. E questo è stato visto in numerosissimi studi, soprattutto per quando riguarda il post-workout, soprattutto in alimentazioni iperglucidiche. Quindi, da questo punto di vista, le calorie non me ne frega assolutamente niente. Non sono le calorie che determinano un pasto, un alimento, se è sporco o se è pulito, se è buono o se è cattivo, che impatto ha sulla salute. Questo nell'atleta, nello sportivo, nel sedentario, ovviamente è diverso. La ripetizione del macros è un po' più spinosa, sicuramente devo andarla a considerare, nel senso che, come sapete, io vado a concentrare i carboidrati a ridosso dell'allenamento, ad occhio, e vado a tenerli un po' più bassi lontano all'allenamento e preferisco i grassi lontano all'allenamento. Però, a parte questo, che siano quei 10-20 grammi di grassi in più, quei 50-60 grammi di carboidrati in più, realmente non ha un impatto così forte. Quindi, questi alimenti fit, che sono necessariamente low fat, low carbs, voglio dire, su un corpo che è così attivo e che ha un dispendio energetico del genere, che impatto può avere? E anche là, i sistemi di autoregolazione del corpo fanno sì che ci sarà più bisogno e più voglia di grassi e carboidrati in base a quello che abbiamo mangiato negli altri pasti, ma al tempo stesso che il nostro corpo, finché è in fisiologia e finché c'è una buona flessibilità metabolica, di cui ho parlato nei video su quella che è la CG ratio, quindi la capacità del corpo di shiftare dall'utilizzo di acidi grassi o l'utilizzo di carboidrati, a seconda delle esigenze e a seconda di quel che gli diamo da mangiare nei diversi momenti a scopo energetico, dicevo, finché c'è una buona flessibilità metabolica, semplicemente il nostro corpo si adatterà. Quindi in giornate in cui magari mangio un po' più di grassi, il nostro corpo semplicemente brucerà più grassi, giornate in cui mangio più carboidrati, il nostro corpo semplicemente brucerà un po' più di carboidrati. Ok? Finché siamo in un range di quello della CG ratio, il nostro corpo è capace di gestire e di shiftare di nuovo in base alla necessità. Quindi è veramente realmente l'ultima preoccupazione. Ora, perché dico tutto questo? Perché, di nuovo, ci troviamo nel paradosso che a priori alcuni alimenti sono considerati come alimenti cattivi indipendentemente da come vengono fatti e quindi ci previamo di moltissime occasioni per avere dei pasti gustosi, un'alimentazione che comunque sia più enjoyable, più piacevole per noi, e di distruggerci a livello gastrointestinale con tutte queste schifezze di budini, alimenti fit, eccetera, perché sono sponsorizzati da codice sconto dai nostri fit influencer preferiti. Ora, ogni tanto, utilizzarli sicuramente va bene, non voglio fare terrorismo in generale, però, ora, vi faccio degli esempi pratici. Se vi va un hamburger, un pane fatto in casa o comprato fresco, ben lievitato, comprare della carne o del macinato grass-fed, quindi con un buon contenuto di acidi grassi buoni rispetto al macinato che trovate normalmente, o fare un hamburger di carne magra, tranquillamente, quindi un macinato sotto il 5%, quindi apporterà degli acidi grassi che non sono al massimo, però vengono da... non sono generalmente tanti. Ora, oltre a questo, ci possiamo inserire una guacamole come salsa che viene dall'avocado, ci possiamo inserire dell'olio, possiamo fare una maionese fatta in casa con tuorlo ed olio, e ovviamente non esagerare da questo punto di vista, ma mettere degli acidi grassi che sono buoni, della verdura fresca, quindi la lattuga, piuttosto che il pomodoro, eccetera, eccetera, e questo rappresenta un pasto che è super bilanciato perché abbiamo una buona quantità di carboidrati, grassi andiamo a metterne di più o di meno in base al momento in cui ce li mangiamo, comunque una discreta quantità di grassi, se vogliamo anche molto molto bassa, e una buona quantità proteica. Questo è un pasto super bilanciato, ci stiamo mangiando un hamburger che è super gustoso, se abbiamo voglia di hamburger ci soddisferà, piuttosto che scrafagnarci magari il surrogato, l'alternativa, la barretta, il budino, quello che è, o semplicemente mangiare il riso e il pollo, magari con gli stessi identici macros, ad occhio, però perché dobbiamo mangiare il riso e il pollo, e l'hamburger invece non è fit. E questo logicamente se digerite bene il pane, perché per gli altri alimenti bene o male la digestione è ottimizzata, però il pane, la presenza di glutine, per quel che può essere, generalmente non è un problema se lo mangiate ogni tanto, veramente, per quanto possiate essere sensibili al glutine, però per il resto non è assolutamente una cattiva fonte, potete farlo integrale, se avete voglia di un alimento un po' più ricco di micronutrienti, questo sicuramente va bene, se non ne mangiate troppo, non state troppo alti in generale di fibre, o non state troppo vicino all'allenamento, eccetera, eccetera, quindi è un'ottima fonte davvero. La pizza, una pizza ben lievitata, e quella la lievitazione che venga fatta bene è fondamentale, perché sennò continuo a lievitarvi nella pancia, che è un sacco di casini, però una pizza ben lievitata, di nuovo, se volete l'alternativa integrale, se avete bisogno di micronutrienti, eccetera, se state alti di carboidrati, assumete già abbastanza fibre, fate un pasto completo, eccetera, potete prenderla anche con una farina, per esempio raffinata, ma non troppo, per esempio una farina 1, una farina 2, insomma, dipende quello dall'abilità di chi la prepara, quindi un buon grado di lievitazione, a questo punto sopra vi potete sbizzarrire, potete fare una marinara semplice, con olio evo a crudo, potete metterci una fonte proteica, che vi piaccia, ora non so, a qualcuno piacere col tonno, potete metterci del pollo, mangiarlo semplicemente a parte, quindi il secondo, la fonte proteica, potete mangiarla a parte, e ci potete mettere delle verdure, un sacco di alternative, realmente, però molte persone, invece di mangiarsi una buona pizza, fatta così, infatti in casa, si mangiano una pizza, di quelle con, non so che tipologia esattamente, di farina, o di fibre messe all'interno, hanno pochissime dolure, pochissimi carbo, sono praticamente fibra pura, ve la mangiate, vi scombinano totalmente, a livello gastrointestinale, erano vendute delle fibre del genere, non mi ricordo, una volta la provammo, e porca vacca, stetti malissimo, a livello gastrointestinale, mi distrusse, ma era quello che pensavo, cioè, no, non posso mangiare la pizza, perché non ho la giornata dello sgarro, quindi mi mangio questa pizza fit, e poi mi aggiungo i carboidrati a parte, dal riso magari, o da un'altra fonte, qual è il senso, perché non mangiarsi una fibra, una pizza, una fibra, perché non mangiarsi una pizza normale, invece di mangiare questa pizza là del cavolo, e aggiungere il riso a parte, però è così che siamo stati abituati a ragionare, e ragionavo assolutamente anch'io, sbagliando, mi rendo conto sbagliando, quindi, di nuovo, qual è il senso delle cose, come definire un cibo buono, un cibo cattivo, realmente, dobbiamo vedere esattamente qual è la composizione, e possiamo seguire questa scala, e per questo vi dicevo, che alla fine la cosa prioritaria, quando mi rapporto a un determinato pasto, mi rapporto a un determinato alimento, è più che altro, quale impatto ha sul mio sistema gastrointestinale, sul mio stare bene, non mi crea i bloating, non mi crea i meteorismo, non mi crea i gonfiori di genere, e mi permetta di allenarmi bene, poi il resto, il quantitativo calorico, sti cavoli, è l'ultima cosa che guardo, i macros, in parte li guardo, però, sono l'ultima preoccupazione, che un buon atleta dovrebbe avere, ora, se voi vedete che il vostro corpo, o che comunque, in generale, il modo in cui state vivendo il bodybuilding, vi porta ad avere questa massima considerazione, delle calorie dei macros, probabilmente state sbagliando qualcosa, probabilmente non state facendo bodybuilding, probabilmente, se vogliamo questo non è il canale per voi, perché la direzione che voglio portare, è totalmente differente, e il modo in cui lavorate in sala, vi dovrebbe far distaccare, vi dovrebbe far vedere, quello di cui sto parlando, a livello concreto sul vostro corpo, sia mangio di più a livello calorico, non cambia assolutamente niente, o delle piccole variazioni, non cambia niente, perché semplicemente, quello che succede in performance, e la risposta in generale, del mio corpo a livello adattativo, fa in modo che questo non sia, e non abbia un impatto, quindi, approcciarsi a questo discorso, di avere una dieta sana, equilibrata, e ragionare, più che altro sulla composizione e bontà, di quel che mangiamo, più che essere ossessionati, dal quantitativo calorico, quei 5 grammi di grassi in meno, o quei 5 grammi di carboidrati in meno, sostituiti con un sacco di edulcoranti, di conservanti, di additivi, di agglomeranti, eccetera, ragazzi, non è così, che ci si dovrebbe approcciare, a questo sport, perché semplicemente, non state facendo degli sportivi, ma state focalizzando, soltanto la vostra attenzione, sull'alimentazione, spero di avervi dato, degli spunti interessanti, ovviamente, qualsiasi commento, e contraddizione, scrivete qua sotto, sarò ben liato, di rispondere, e niente, detto questo, io vi rimando al prossimo video.